Musica Ben trovati allo spazio dedicato alle notizie dalle altre province della Toscana. Iniziamo con la cronaca. Poco prima delle 6 di questa mattina è stato ritrovato dai sanitari un uomo steso per strada in coincidenza di uno stop in località Antella, a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Annunziata, l'uomo, un peruviano di 63 anni, purtroppo è deceduto. Sul suo corpo i sanitari hanno riscontrato escoriazioni a gambe e braccia, oltre alla completa rottura del capo, lesioni ritenute compatibili con un investimento. L'uomo cioè sarebbe stato travolto da un'auto. Vicino all'uomo sono stati individuati anche pezzi di plastica, verosimilmente riconducibili ai fari appunto di una vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze e del nucleo operativo della compagnia di Oltrarno e della stazione di Grassina, che indagano sull'accaduto anche grazie all'ausilio di sistemi di videosorveglianza. Tragedia a Iolo, in provincia di Prato. Nel tardo pomeriggio di ieri, un anziano di 87 anni, Franco Zeloni, ha perso la vita, intossicato dai fumi dell'incendio divampato nella sua abitazione. Vani i tentativi di rianimarlo e la corsa sirene spiegate all'ospedale. L'uomo è morto durante il tragitto in ambulanza. L'allarme è scattato quando la badante è rientrata in casa dopo aver fatto la spesa, mentre i passanti hanno notato il fumo uscire dalle finestre. Il personale paramedico del 118 lo ha portato all'ospedale cittadino con l'ambulanza, ma l'uomo è arrivato al nosocomio senza vita. L'incendio si è sviluppato nella sala dell'appartamento, probabilmente secondo le prime ipotesi, a causa del cortocircuito di un elettrodomestico. Un uomo di 74 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa dopo essere stato aggredito nel pomeriggio di ieri in via Bovio, in piano centro, da un 24enne che lo ha picchiato senza apparenti motivi. Successivamente l'aggressore ha colpito e ferito anche un altro uomo di 36 anni intervenuto in aiuto dell'anziano prima di essere fermato e arrestato dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si era appena allontanato dallo studio professionale dello psichiatra dal quale era in cura quando per strada ha incrociato l'anziano e ha iniziato a picchiarlo con violenza procurandoli gravissime lesioni. Il 74enne è stato anche a lungo rianimato sul posto prima di essere trasferito in ospedale. Poco dopo il 24enne ha anche colpito al volto ferendolo un 36enne intervenuto per sottrare l'anziano alla furia del giovane. A quanto si è appreso l'arrestato rimasto in zona dopo le due aggressioni non avrebbe fornito spiegazioni agli agenti che lo hanno bloccato e accusato di tentato omicidio per la sua prima vittima e di lesioni gravissime per la seconda. Ancora la cronaca ai vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti poco prima delle 22 ieri sera nel comune di Siena in via Luigi Sprugnoli per un incendio in un laboratorio di pasticceria. I pompieri entrati all'interno del locale hanno confinato ed estinto l'incendio successivamente poi hanno provveduto al raffreddamento e alla messa in sicurezza del locale. Parliamo di economia e andiamo a vedere che cosa dice il rapporto IRPET 2022. La Toscana nel 2022 si è dimostrata in grado di reggere i colpi pesanti provocati dagli eventi internazionali e ora affronta il nuovo anno con le opportunità messe in campo dal PNRR dovendo però fare i conti con un tessuto socio-economico indebolito dall'inflazione e dall'aumento del costo dell'energia che hanno eroso il potere d'acquisto delle famiglie. È il quadro dell'economia toscana emerso dal rapporto IRPET l'istituto per la programmazione economica della Toscana che è stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Le stime del 2022 sul PIL indicano un più 3,9% un valore più basso rispetto alle attese elaborate prima dello scoppio della guerra in Ucraina ma comunque maggiore di quanto l'evoluzione delle vicende internazionali facesse immaginare a metà anno. Per il 2023 la stima indica un più 0,6% ed un aumento nel biennio 2024 e 2025 rispettivamente dell'1,3% e dell'1,2%. L'inflazione sale fino al 12,2% in Toscana con una media annua che si attesta al 7,8%. Davvero le previsioni per l'anno prossimo ci portano a considerare un livello di produzione industriale che asseconda la crescita degli ultimi mesi di quest'anno, addirittura sopra il 7 negli ultimi mesi di quest'anno e una previsione ancora di crescita maggiore per l'anno prossimo, dati sull'occupazione che ci danno al 4,5% quindi in una situazione di miglioramento rispetto all'anno precedente e potenzialità che derivano dagli investimenti di un PNNR che per la Toscana significa più di 4.300 progetti e quindi un volano se vogliamo in chiave chienesiana che può attivare crescita di occupazione, di fatturato e quindi nuove potenzialità per l'economia toscana. Sono convinto che per far questo è evidente che occorre molta pace sociale, coesione e azioni di sostegno alle imprese che la regione anche attraverso i fondi europei oltre che il piano nazionale di ripresa e resilienza proprio si propone. È tutto per le notizie delle province della Toscana, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio tra poco alla Tg della provincia di Lucca.